Non possiamo continuare ad accumulare scorte di vaccino, abbiamo 250.000 scorte di AstraZeneca nei nostri frigoriferi, mentre la gente rischia il Covid ogni giorno, rischia il contagio per non essersi ancora immunizzata. Abbiamo messo al sicuro il 10% dei siciliani, dobbiamo adesso passare alle isole minori, soprattutto a quelle di frontiera e quindi parlo di Lampedusa e Linosa, in questo fine settimana vaccineremo quei cittadini dai 18 anni in su e poi passeremo alle altre isole. Intanto da domani si ricevono in Sicilia le prenotazioni per gli ultracinquantenni. Dobbiamo correre velocemente, dobbiamo sperare che i medici di medicina generale ci aiutino ancora di più nel vaccinare i più fragili, gli ultraottantenni, dei quali conoscono tutto, patologie e indirizzi, e quindi che si schierino senza alcun tentennamento accanto a noi e andiamo avanti perché è giusto che entro l'estate la stragrande maggioranza dei siciliani possa essere messa al sicuro. Lo abbiamo lanciato a Enriottosa e ai diffidenti ormai da diversi mesi il messaggio, vaccinarsi è l'unica soluzione possibile per mettersi al riparo dal contagio, bisogna superare ogni diffidenza e abbiamo il dovere di credere al mondo scientifico.